Preparativi per la festa La malattatura, aiutare la pasta, modellarsi affinché si adatti bene al palato superiore Deve mettere diverse volte Se il processo qua si modellano a forma del dente No, vabbè Che io ti prego Come fa? Non fa un cagare Vieni, primo cagato Sono confidato Quello che sono quelli scrauti che cazzo vuoi da me Dovemi schiacciare, tenere proprio schiacciato forte Allora, vabbè per rispaventarti ma io non lo so la 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti